Mi chiamo Marina Marazzi e sono docente in scuola TAO. Insegno nel corso di Tecnic Salutari e nello specifico sono co-docente nel corso di Onzon Su, che è il corso di massaggio al piede, e insegno cromopuntura, che è lo strumento che permette ai non medici, in questo momento in Italia, di poter agire e utilizzare i punti di agopuntura, sostituendo all'ago una frequenza, quindi la luce e il colore. Il corso di Tecnic Salutari si sviluppa su tre anni, consente di dare a tutti gli studenti le basi necessarie per poter poi fare una valutazione energetica e oltre alla cromo e al massaggio del piede, prevede anche l'insegnamento di tecniche accessorie quali l'auricologia, la coppettazione, la moxa, il martelletto e il vi aspettiamo e siete i benvenuti.